In questo caso noi abbiamo deciso di proporre all'Assemblea e agli iscritti come proposta di segretario, una segretaria che non ha bisogno di presentazioni per l'impegno che ci mette da una vita, impegno fatto di lavoro e soprattutto di passione. Sofia Russo, la segretaria del circolo cittadino di sinistra italiana, è il risultato del primo congresso svoltosi al centro di aggregazione giovanile a Nocera Inferiore, a presiedere i lavori la segretaria provinciale Titti Santulli, il segretario regionale Tonino Scala, presente anche il deputato dei Verdi sinistra Franco Mari a portare i saluti, il primo cittadino Paolo De Maio, gli esponenti di maggioranza al completo, CGL Libere ed Ampi, il congresso al termine del dibattito interno ha eletto Sofia Russo, segretaria cittadina, crediamo nell'efficacia e nella necessità del campo largo anche nelle realtà territoriali, ha sottolineato Sofia Russo, neosegretaria, il nostro obiettivo, ha rimarcato, è quello di rappresentare uno spazio aperto di dialogo per tutte le forze riformiste di sinistra presenti in città. Il rapporto politico c'è un grande rapporto umano, c'è un umanismo che è quello che serve alla società e quello che serve alla politica, io sto bene insieme a voi e vi ringrazio innanzitutto per quello che mi trasmettete e quello che mi date. Io sono onorato di essere stato invitato dalla signora...